ed eccoci qui ragazzi con un nuovissimo video sono sempre io felix oggi voglio farvi vedere ragazzi quali sono per me le migliori applicazioni i migliori siti che mi vengono in mente seri e paganti andiamo a vedere anche le prove di pagamento che fanno guadagnare soldi senza fare praticamente niente raga andiamo a scaricare le applicazioni le andiamo a installare nel nostro smartphone diamo il nostro numero di cellulare andiamo a registrarci ai siti avviamo i programmi in automatico applicazioni siti programmi faranno tutto loro noi non dobbiamo fare più nulla con pochi click andiamo a guadagnare soldi online prima di proseguire con il video volevo come sempre invitati ad iscriverti al mio canale di youtube chiamato guadagnare soldi con felix iscriviti attiva la campanellina se vuoi rimanere aggiornato su nuovi siti sulle nuove applicazioni che ti permettono di guadagnare soldi online e mi raccomando ragazzi mettete mi piace al video per sostenere il canale di felix come vi ho detto ragazzi oggi andiamo a vedere quali sono i migliori siti per me le migliori applicazioni che fanno guadagnare soldi online in automatico con un solo click il primo sito che mi viene in mente è chiamato fluid stack fa guadagnare soldi tramite il pc andando a noleggiare praticamente la nostra rete wifi l'andiamo a vendere a fluid stack e ovviamente noi in automatico andiamo a guadagnare dei soldi possiamo guadagnare fino a 50 dollari al mese veramente semplice basterà registrarsi una volta che ci siamo registrati dobbiamo andare ad impostare il nostro programma dopodiché ci penserà tutto fluid stack va in base alla nostra rete wifi più è veloce più andiamo a guadagnare possiamo guadagnare fino a 50 dollari al mese ce lo ripete anche il sito adesso io vi voglio fare vedere la prova di pagamento questa qua ragazzi quello che vedete la mia prova di pagamento di fluid stack mi ha inviato 10 dollari su paypal il 31 gennaio del 2020 questo sito è serio e pagante ovviamente come vedete io ho guadagnato questi soldi in poco tempo e non ho neanche una connessione wifi veloce quindi ragazzi fantastico sito vi lascio il link qui sotto in descrizione chiamato fluid stack potete poi vedere nel mio canale di youtube anche il video riguardante solamente questo sito è uno degli ultimi video che ho caricati dedicato proprio a questo sito qua chiamato fluid stack guadagniamo fino a 50 dollari al mese andando a vendere la nostra rete wifi in modo completamente automatico guadagniamo soldi online il secondo sito che mi viene in mente che non è solo un sito è anche un'applicazione chiamata honey gain fa guadagnare soldi ragazzi andando a scaricare l'applicazione basterà avviarla e in automatico incominciamo a guadagnare i soldi vi ho portato un sacco di prove di pagamento sul mio canale ragazzi di honey gain adesso ve la faccio vedere ancora un'altra prova di pagamento una delle ultime prove questa qui è la prova di pagamento di honey gain questa persona qua mi ha inviato 31 dollari 68 centesimi il 24 di gennaio del 2020 anche questo sito anche questa applicazione è seria ed è pagante è esistente anche il programma per il pc lo andiamo a scaricare direttamente dal sito è esistente l'applicazione per android e c'è anche l'applicazione per il mac fantastico sito fantastica applicazione che ci permette di guadagnare soldi solamente scaricando l'applicazione e il programma andiamo a registrarci andiamo a avviare il tutto e in automatico andiamo a guadagnare soldi anche questa app anche questo sito qui fa guadagnare soldi andando praticamente a condividere a vendere la nostra rete wifi più è veloce più soldi andiamo a guadagnare oltretutto questo sito qua ha un programma di referenza vuol dire che c'è un ref link personale che ci farà guadagnare soldi dalle persone che facciamo registrare qui sotto potete anche andare a fare un calcolo tramite la vostra rete wifi andando a condividere i nostri gigabyte andiamo praticamente a guadagnare la cifra ogni mese questa cifra qua che vedete vi lascio il link qui sotto in descrizione anche di on again fantastico sito fantastica applicazione per guadagnare soldi in automatico con un solo clic la seconda app ragazzi è chiamata screen lift la sto usando da anni e mi ha sempre pagato questa applicazione fa guadagnare soldi in automatico perché una volta che la andiamo a scaricare l'applicazione praticamente che cosa fa va a creare uno screen quando noi andiamo ad effettuare lo sblocco dello smartphone va a mettere le pubblicità davanti allo screen praticamente veniamo pagati perché gli inserzionisti si vanno a pubblicizzare all'interno di screen lift noi ogni volta che andiamo ad effettuare il lock screen del nostro smartphone ci comparirà screen lift e andiamo a guadagnare sempre i soldi molto facile basterà scaricare l'applicazione e ci penserà a tutto screen lift andiamo a guadagnare praticamente questi punti chiamati lift e dopo possiamo andarli a convertire in soldi su paypal o in buoni regalo molto somigliante a slide joy e altre applicazioni simili ma questa qui per me è la migliore molto semplice come app tutta qua la scarichiamo la andiamo a installare sullo smartphone e in automatico ogni volta che usiamo il cellulare che andiamo ad effettuare il lock screen veniamo praticamente pagati vi faccio vedere anche la prova di pagamento ovviamente di screen lift cash out come vedete l'azienda che ci paga è questa qua e mi ha inviato 5 dollari su paypal perché ho fatto la richiesta di prelievo screen lift cash out fantastica app per guadagnare soldi in automatico senza fare praticamente nulla adesso ragazzi vi faccio vedere queste tre app che sono identiche che fanno veramente guadagnare soldi ho sempre portato le prove di pagamento fanno guadagnare soldi solamente andandola a scaricare lo andiamo ad installare sullo smartphone andiamo praticamente a dare il nostro numero di cellulare non vi preoccupate ragazzi che cosa fa questa applicazione per esempio mac money ci va ad inviare degli sms test sms casuali non vogliono dire nulla quegli sms lì e veniamo pagati per ogni sms che andiamo a ricevere gli sms li possiamo poi anche cancellare agli sms ragazzi non ci dobbiamo rispondere perché non significano nulla praticamente li possiamo una volta ricevuti anche cancellare e ogni volta che ci viene inviato un sms riceviamo dei soldi questa applicazione qui è chiamata mac money sempre serie pagante guadagna per ricevere messaggi di testo ricevi denaro reale pagato per aiutarci a migliorare la comunicazione in tutto il mondo tutto quello che devi fare è ricevere messaggi di testo sul tuo cellulare una volta ogni tanto non è che ogni giorno ci bombarda di sms una volta ogni tanto ci manda un sms casuale che non vuol dire nulla sono solo dei codici dopodiché quando abbiamo ricevuto quell sms lì veniamo pagati nel nostro conto di mac money con mac money una volta arrivati a prelievo minimo di 4 dollari può andare a prelevare quindi veramente semplice installa e guadagna denaro semplice come applicazione stessa cosa money sms fantastica questa applicazione con questa applicazione qua ragazzi io ho guadagnato più soldi ok oltre ad esserci un bonus durante la registrazione di 25 centesimi di euro fa guadagnare un sacco di soldi andando sempre a ricevere questi sms casuali io sul mio smartphone ho installato mac money e money sms e non vanno in conflitto vuol dire che le possiamo usare tutte e due insieme e andiamo anche con questa applicazione qua ricevere dei messaggi casuali che non vogliono dire nulla e veniamo pagati vi voglio fare vedere la prova di pagamento di money sms come vedete questa qua è la società telcu telcom ugiti ha inviato 7 euro e 51 centesimi e ovviamente l'applicazione è money sms veramente senza fare nulla scaricandole andiamo a guadagnare dei soldi la terza applicazione è questa qua è chiamata sms profit è sempre identica alle altre due precedenti fa guadagnare soldi ricevendo questi sms test per ogni sms riceviamo fino a 10 centesimi di dollaro con sms profit prelevo minimo è di 1,50 centesimi anche questa app è seria e pagante praticamente che cosa avete appena visto? avete appena visto dei siti, delle applicazioni che vi fanno guadagnare veramente soldi reali senza fare niente ovviamente non è che andrai a guadagnare un sacco di soldi ogni giorno ma mettendole tutte insieme queste applicazioni, questi siti andiamo veramente a guadagnare qualcosina al giorno ragazzi quindi oltretutto questi siti, queste applicazioni sono tutti seri e paganti avete appena visto le prove di pagamento io raga vi lascerò il link qui sotto in descrizione di tutte le app e di tutti i siti che vi permettono di guadagnare soldi senza fare praticamente nulla scaricando le app, installandole andiamo a guadagnare soldi in automatico stessa cosa per FluidStack e per HoneyAgain possiamo scaricare i programmi per il pc le andiamo ad avviare e in automatico andiamo a guadagnare soldi ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando se volete rimanere aggiornati sulle nuove app sui nuovi siti che ti possono far guadagnare soldi in automatico senza fare nulla non ti prometto che guadagnerai 50 euro al giorno ma puoi guadagnare qualcosina al mese senza fare praticamente nulla quindi per il video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se volete rimanere sempre aggiornati ciao